Ciao ragazzi, oggi condividerò con voi la mia esperienza personale con Ketone Active. Prima di iniziare, devo dire che ero molto insoddisfatto del mio corpo e della mia salute prima di scoprire questo fantastico prodotto. Avevo provato diverse diete e integratori, ma nulla sembrava funzionare in modo efficace e duraturo. Mi sentivo stanco, senza energia e molto frustrato per non raggiungere i miei obiettivi. Fu allora che scoprì Ketone Active e decisi di provarlo. Dal primo giorno, sentii una differenza incredibile nel mio umore e nella mia energia. Sono stato in grado di concentrarmi meglio al lavoro e ho iniziato a fare esercizi molto più facilmente. Ma il meglio doveva ancora venire. Col tempo, ho cominciato a notare una differenza significativa nel mio aspetto fisico. Stavo perdendo peso in modo sano e senza dover morire di fame o privarmi di cibi che mi piacevano. Mi sentivo più sicuro e più felice con me stesso. Stavo finalmente raggiungendo i miei obiettivi e diventando la migliore versione di me stesso. Al giorno d'oggi, continuo a usare Ketone Active come parte della mia routine quotidiana e non riesco a immaginare la mia vita senza di essa. Mi aiuta a mantenere il mio peso sano e mi dà l'energia di cui ho bisogno per affrontare il giorno per giorno con più disponibilità e gioia. Pertanto, consiglio Ketone Active a chiunque voglia perdere peso in modo sano e naturale, senza dover morire di fame o privarsi di cibi che gli piacciono. Prova Ketone Active e senti la differenza nella tua salute e vita.